Buonasera e bentrovati su Arezzo TV per il nostro consueto appuntamento con l'informazione in apertura alla cronaca nel corso dei controlli effettuati dal personale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Arezzo. Assieme al nucleo dei Carabinieri Spettorato e in collaborazione con i militari di Cortona e Bibbiena in un ristorante pizzeria del Casentino sono stati trovati sei lavoratori in nero su sei presenti. Lo rende noto appunto l'Ispettorato spiegando che i servizi ispettivi sono stati svolti oltre che nel settore dei pubblici esercizi anche in quello dell'edilizia. In un cantiere della Valdichiana, si specifica, sono state riscontrate numerose violazioni in materia di salute e sicurezza, tra le quali l'omessa adozione di misure per la prevenzione incendi. Sono state inoltre adottati, si spiega, otto provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, sette per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza e uno per occupazione di personale in nero. Al termine delle operazioni sono stati denunciati all'autorità giudiziaria sette datori di lavoro per le violazioni in materia di salute e sicurezza e sono state elevate ammende per oltre 25 mila euro e sanzioni amministrative per 34 mila euro. E adesso torniamo a parlare dell'antenna della discordia in via Sicilia ad Arezzo, una torre per la telefonia mobile che non piace ai cittadini che hanno raccolto le firme anche per stoppare l'installazione. I tecnici del comune questa mattina hanno effettuato un sopralluogo. Vediamo. Stop ai lavori di installazione dell'antenna in via Sicilia. Sarà infatti necessaria una nuova verifica da parte di ARPAT. I tecnici del comune di Arezzo questa mattina hanno effettuato un sopralluogo proprio dove sarebbe dovuta sorgere la torre per la telefonia mobile per verificare lo stato dei lavori e l'eventuale fattibilità complessiva dell'intervento. Dal sopralluogo è emersa la necessità di una nuova verifica da parte di ARPAT dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, un valore di attenzione che dirimente in fase autorizzativa. In virtù di questo è stata disposta la sospensione dei lavori con la soddisfazione dell'assessore Francesca Luccherini. Adesso spetterà da ARPAT a procedere alle verifiche del caso. La struttura aveva sin da subito fatto storcere il nanzo ai residenti. Perché chi è che la vorrebbe davanti a casa? Nessuno. Noi e neanche altri. Penso che nessuno la voglia. L'antenna che avrebbe una potenza superiore ai 20 watt sarebbe dovuta sorgere a poche decine di metri dalle abitazioni e a circa 300 da una scuola media. Capisco la necessità perché oggi viviamo tutti con questi wifi, computer e tutto quello che è. Però ecco, rivederla un attimino dove è possibile. Poi noi l'abbiamo tentata tutte e poi vediamo. I cittadini avevano già dato avvio ad una petizione, 600 le firme raccolte ad oggi nell'area del parchino di Via Emilia. Noi non è che siamo contro l'antenna. L'antenna la possono mettere perché è giusto, ma non davanti alle case così. Non si venderà manco più le case. Ce l'hanno detto. Io ho da vendere, non la venderò sicuramente. Me l'hanno già detto. Più. Non siamo contro. Non è con l'antenna. Contro l'antenna no. L'antenna c'è tanti posti perché è l'unico posto che l'ha messo davanti alle case. Lo vedete anche voi. E Arezzo Casa mette all'asta l'affetto di alcuni immobili sia ad Arezzo che a Cortona. Ne abbiamo parlato con il presidente di Arezzo Casa, Lorenzo Roggi. Ormai è già da più di un anno che l'edilizia residenziale pubblica in Toscana va avanti solo ed esclusivamente con la forza dei propri canoni. Pensate che noi abbiamo un affitto medio di 100 euro. Quindi l'ultima possibilità che avevamo per portare dentro un po' di risorse fresche erano gli ultimi fondi commerciali rimasti. Arezzo Casa ha così deciso di mettere all'asta l'affitto di 10 immobili. Si tratta di fondi ad uso commerciale e non abitativo. 8 si trovano nel comune di Arezzo in pieno centro e 2 a Cortona. Tra questi c'è anche l'ex asilo di Via della Chimera. Il bando scade a marzo, quindi ancora la tempistica c'è. Chiunque volesse vederli può andare nel sito di Arezzo Casa, troverà la ricognizione fotografica di ogni singolo immobile, la descrizione catastale corretta e la base d'asta minima da cui si parte. L'offerta va fatta in busta chiusa e poi le offerte verranno aperte una volta che il bando sarà scaduto. La nostra volontà era quella di rimetterli nel mercato nel tempo più breve possibile con la speranza di riuscire a allocarli perché poi quello che riusciamo a introitare da questi affitti viene riversato nella manutenzione che facciamo delle case popolari. Quindi queste per noi sono energie fresche che ci danno una mano a portare avanti la nostra mission. Un'iniezione di risorse è fondamentale in questo momento storico. Ormai da un anno infatti Arezzo Casa non usufruisce più di alcun finanziamento statale, regionale o comunale. L'allianza di Arezzo Casa paga ai comuni un canone concessorio che al netto della rivalutazione oggi è arrivato quasi a 340 mila euro, tutti i soldi che purtroppo vengono sottratti alla manutenzione, quindi è diventato veramente, veramente difficile. Non c'è mai stato storicamente nella storia della Repubblica un momento così difficile per l'edilizia residenziale pubblica. In Toscana, secondo un recente studio di nomismo elaborato per CISPEL, le domande innevase di case popolari riguardano oltre 17.600 famiglie, mentre in un anno ne vengono assegnate in media poco meno di mille. Per assorbirle tutte dunque occorrerebbero 17,6 anni. Ad Arezzo in assenza di nuove domande invece ne sarebbero sufficienti otto. Noi siamo un'eccellenza sotto molti punti di vista, ma è evidente che questo non sia sufficiente. Il solo comune capoluogo ha fatto da poco un bando che è stato aperto. Insomma, c'erano 270 famiglie in attesa, tutte quante con i requisiti, quindi che avrebbero diritto ad entrare in una casa popolare e che saranno costretti ad aspettare chissà quanto. Altri due tratti di pista ciclabile sono stati inaugurati oggi dall'assessore Alessandro Casi ad Arezzo, entrambi a collegamento di percorsi già esistenti. Il primo unisce il Palasport Estra Mario D'Agata al centro commerciale ex Ipercop, congiungendo un quartiere residenziale della città particolarmente popoloso come la zona di Via Fiorentina, dove oltre il palazzetto insistono varie scuole e l'area di Arezzo Fiere, con i centri commerciali presenti in Viale Amendola. Il percorso dal parcheggio del Palasport prosegue verso la Passerella sul Torrente Castro, costeggia il Teatro Tenda e prosegue nella viabilità interna al centro commerciale Centro Arezzo, fino all'imbocco del sottopasso che sbuca nel piazzale del Lobby. Dal parcheggio del Lobby il secondo percorso ciclopedonale porta al centro commerciale al Magnifico in di Via Sette Ponti e rappresenta il primo tratto di un'importante maglia di ricucitura della rete ciclabile cittadina. Questa pista tra l'altro verrà collegata anche a Via Bologna con un altro appalto PNRR. In questo modo dal centro città si potrà arrivare in bici nei due centri commerciali. Entrambi i lavori sono stati finanziati con fondi PNRR, Missione 5, Rigenerazione Urbana, per un totale di oltre 320 mila euro. Un'iniziativa oggi in provincia per parlare di bullismo e cyberbullismo. Ce ne parla Chiara Sadotti. Bullismo e cyberbullismo continuano ad essere un fenomeno dilagante. In Italia uno studente su quattro ha dichiarato di esserne stato vittima, mentre sempre dall'ultimo monitoraggio ministeriale il 17% dei giovani ha dichiarato di aver preso parte attivamente ad episodi di bullismo. Purtroppo c'è anche un aumento dei fenomeni di cyberbullismo di genere, cioè le ragazze sono più colpite dei ragazzi. Nella giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, la provincia di Arezzo, con il partrenariato dell'Associazione Pronto Donne dell'Ufficio Scolastico, ha organizzato un convegno sul tema. Il ruolo delle scuole deve essere in sinergia con le amministrazioni, con le polizie, con anche i servizi sociali, quello proprio di lavorare per la prevenzione, quindi dare un ruolo attivo ai ragazzi e sensibilizzare i ragazzi e famiglie. L'iniziativa fa parte delle attività del progetto Bullismo e Cyberbullismo, azioni in rete per prevenire e contrastare un fenomeno in crescita, inserito nell'ambito di Giovani Sì, progetto della regione toscana. Le scuole coinvolte sono due per ogni zona del nostro territorio, sì, della provincia, e coinvolge una scuola media e un istituto superiore. E finirà con un convegno finale. Il progetto, oltre alla formazione del personale docente con particolare attenzione ai referenti per il bullismo, prevede anche laboratori nelle scuole medie e superiori attraverso l'utilizzo della metodologia peer education. Ognuno ha più capacità di relazionarsi e dire cose con persone più o meno della stessa età, quindi stimolare questo, stimolare attraverso questo anche la preparazione dei vari docenti e in fondamentale migliorare il più possibile quella anche con le famiglie. E di lotta al cyberbullismo in ogni sua forma si è parlato anche a Foiano della Chiana con il gruppo psicologi di Confcommercio Firenze Arezzo. Oggi nelle aule dell'istituto omnicomprensivo Guido Marcelli, durante l'evento organizzato in collaborazione con l'istituto, il supporto del comune di Foiano della Chiana e del Val di Chiana Village. Di fronte ad un'attenta platea di studenti sono intervenuti il vice sindaco del comune di Foiano Jacopo Franci, il dirigente scolastico dell'istituto Marcelli Anna Bernardini, il direttore del Val di Chiana Village Riccardo Lucchetti e il psicoterapeuta Elisa Marcheselli, presidente del gruppo psicologi di Confcommercio Firenze Arezzo, che ha portato all'attenzione dell'aula i rischi sull'uso scorretto degli strumenti online come social e app di messaggistica. Ragazzi e ragazze invece hanno presentato progetti elaborati per approfondire il tema insieme a cortometraggi e dimostrazioni. E a Terra Nuova Bracciolini invece si è parlato di legalità con gli studenti delle scuole superiori. Vediamo. Era il maggio del 93, esattamente un anno dopo l'attentato a Falcone. Li chiameremo immagini terribili. Partendo dal docufilm Illuminando la storia, prodotto dal Comune di Firenze per raccontare quanto accaduto durante la strage dei georgofili, a Terra Nuova si è parlato di cultura della legalità. Lo hanno fatto le studentesse e gli studenti delle classi terze dell'istituto comprensivo Giovanni XXIII. Un modo anche per riprendere questo argomento e di far capire ai ragazzi come oggi anche combattere le mafie sia molto più complicato, molto più difficile e che comunque quella è stata una risposta che è stata data da uno stato intero, dall'opinione pubblica di ribellione e che quindi ha segnato anche un momento importante per il nostro paese. Il docufilm racconta attraverso interviste e testimonianze quanto accaduto a Firenze nella notte tra il 26 e il 27 maggio del 1993. Tra le vittime dell'attentato anche la famiglia Nencioni, alla quale lo scorso 20 gennaio l'amministrazione comunale aveva intitolato la villetta confiscata, la mafia e restituita alla comunità. Sono eventi che ancora oggi ci colpiscono e di cui dobbiamo fare memoria e sono quelli che ci motivano a testimoniare, ad affermare e promuovere la legalità. Spesso e volentieri c'è la concezione, la percezione che la criminalità organizzata sia solo in alcune parti del nostro paese ma questo non è vero perché ormai da diversi anni le mafie raggiungono ogni luogo della nostra penisola e quindi è importante nei territori costruire gli anticorpi necessari. L'iniziativa infine è stata anche l'occasione per presentare il progetto Informazione Giovani Reporter Antimafia. Realizzeremo insieme ai ragazzi, quindi oltre alla parte di approfondimento, anche sei videospot replicabili e soprattutto che porteremo in un evento finale qui nel comune di Terranuova alla comunità. Questi videospot racconteranno appunto quella che è la mafia oggi. Partiamo un po' da quella che è una frase simbolo di Borsellino, ovvero parlatene, parlate delle mafie alla televisione, ai giornali, ma parlatene. Sulle modifiche che il comune di Arezzo ha approvato a regolamento per la formazione delle graduatorie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia, chiediamo una verifica alla giunta regionale perché rischiano di penalizzare tante famiglie di essere pregiudiziali e discriminatorie. Con queste parole i consiglieri regionali del PD Lucia De Robertis e Vincenzo Ceccarelli hanno ufficializzato una interrogazione urgente al presidente Gianni per fare chiarezza su una decisione dell'amministrazione comunale di Arezzo e per verificare se la penalizzazione per la presenza di nonni in condizioni anagrafico, sanitarie e tali da poter ritenere in grado di svolgere funzioni di assistenza dei nipoti è compatibile con le normative per l'accesso ai sostegni economici previsti nell'ambito dei servizi educativi per la prima infanzia. Consideriamo questa scelta non in linea con gli obiettivi dei servizi per la prima infanzia, proseguono De Robertis e Ceccarelli che, come ribadisce bene la legislazione e la programmazione regionale, costituiscono strumenti per rafforzare opportunità educative, di socializzazione, di crescita personale e sociale delle bambine e dei bambini e non devono quindi essere intesi nella funzione di sola assistenza sostitutiva di quella familiare. E questa sera, dopo il nostro telegiornale, andrà in onda la trasmissione dedicata alla Scuola di Educazione Civica organizzata dall'Associazione Intrateveri Tarno. L'appuntamento questa sera è con la lezione di Gianni Fruganti, il giudice che parlerà di legalità. Vediamo. Parla del suo argomento, della sua vita, la legge, meglio, la legalità, e la definisce garanzia o trappola? Cioè, è una garanzia comunque per coloro che dovranno essere giudicati o è una trappola se il giudice non sta molto attento e magari tralascia qualche particolare? Da questa domanda è partito l'incontro tra il giudice Gianni Fruganti e i ragazzi dell'ITIS Galileo Galilei per la Scuola di Educazione Civica organizzata dall'Associazione Intratevere e Arno. È fondamentale parlare di legalità, significa rispettare la legge, perché poi la legge significa rispettare la convivenza civile. La mia libertà è immensa, ma finisce dove comincia la tua. Legalità, garanzia o trappola? Il titolo dell'incontro con Fruganti, giudice di lungo corso, è stato presidente facente funzioni del Tribunale di Arezzo ed ex-presidente della sezione penale. Il messaggio che voglio lanciare ai ragazzi è che ormai negli anni 2000 non ha più senso parlare di legalità in senso classico come rispetto alla legge a prescindere. Mi piace pensare di poter far loro un percorso che partendo da questa impostazione di stampo illuministico arrivi poi a una concezione più moderna e voluta che lega indissolubilmente la legalità ai valori costituzionali. Proseguono così gli appuntamenti didattici del percorso di educazione civica con lezioni incentrate su tanti argomenti diversi ed altrettanti relatori d'eccezione. Abbiamo cercato infatti di rispettare anche quelle scuole che avevano fatto una loro programmazione interna con degli esperti che potessero arricchire se avevano toccato l'argomento, affrontarlo se l'argomento era nuovo. Quindi noi siamo soddisfattissimi perché poi i relatori sono tutti di esperienza concreta per cui non si rimane soltanto nel teorico ma si scende molto anche nel pragmatico. 25 anni per il premio letterario Tagete che anche quest'anno prosegue il suo cammino, il servizio. L'Associazione scrittori Aretini-Tagete ha celebrato i 25 anni ed è già al lavoro per l'edizione 2024. Un doppio appuntamento ormai consueto, quello con il premio letterario Tagete e quello nazionale Etruria che ogni anno richiamano numerose opere ed autori sia Aretini che da ogni parte d'Italia. Il premio letterario Tagete è arrivato alla 25esima edizione ma è sempre riservato agli autori che sono nati o residenti in provincia di Arezzo. Ha una sua tradizione e un suo ambito grande perché ad Arezzo ci sono da sempre tanti ma soprattutto negli ultimi anni tanti autori di professioni le più diverse che scrivono e che pubblicano e quindi tutti gli anni arrivano libri per il premio Tagete di scrittori Aretini. Poi abbiamo creato nel 2021 proprio nel momento peggiore nel febbraio 21 della pandemia il premio nazionale Etruria che ha avuto per ora grande partecipazione e spero che con l'associazione prosegua questo premio e che possa avere anche il supporto oltre che dei soci, delle risorse umane dei soci, delle istituzioni anche dei privati perché portare in fondo questa manifestazione da febbraio a novembre si può dire fino a dicembre è molto impegnativo. Tra i momenti più significativi degli ultimi anni senza dubbio l'incontro con Dacia Maraini è la presentazione del suo libro Caro Pierpaolo dedicato al grande amico Pasolini nel centenario della nascita e al quale nel 2022 fu anche dedicato il premio Tagete. Fu veramente un momento molto bello dal punto di vista della possibilità per il pubblico di ascoltare perché ascoltare dal vivo un autore, uno scrittore parlare della propria esperienza è una cosa che ti rimane. E adesso passiamo alla pagina sportiva oggi c'è stata la presentazione di Joseph Ecuban il 23enne acquistato dal Monterosi classe 2000 origini ganesi è nato a Villa Franca di Verona ed è cresciuto nelle giovanili dell'Ellas ha firmato fino al 30 giugno e giocherà con la maglia numero 9 vediamo Accogliamo il ragazzo con grande motivazione che lui stesso ci ha dimostrato nei primi contatti e nei primi giorni di allenamento mi sembra che abbia grande determinazione per aiutare la causa e soprattutto un giocatore a mio parere ancora inespresso che non ha avuto tante opportunità nell'ultimo club dove ha giocato ma che credo che possa andare a arricchire il nostro patrimonio dei cosiddetti giocatori offensivi di cui fanno parte anche se per qualcuno sono pochi secondo me invece diversi perché mi piacerebbe ricordare insomma in rosa abbiamo Gucci, Sebastiani, Ecuban, Guccione, Gandini e Pattarello e a questi va aggiunto per le caratteristiche che io conosco e che può ricoprire sicuramente un giocatore o un esterno offensivo o un sottopunta o comunque sia un giocatore come Catanese anche se Domenica è stato utilizzato nel ruolo nei due mediani ma se conosco benissimo Giovanni può ricoprire qualsiasi ruolo quindi abbiamo un parco giocatori offensivi che secondo me visto che dobbiamo affrontare non un intero campionato ma solo 14 partite credo che potranno alternarsi a seconda di quelle che saranno le volontà del mister e a seconda di quello che la settimana di lavoro dirà perché abbiamo giocatori con caratteristiche diverse e che quindi il mister potrà utilizzare a suo piacimento a seconda delle gare e delle avversari che dovremo affrontare è di grande stimolo essere qui e io sono veramente contento di essere arrivato in una piazza così importante e sì quello che mi aspetto a livello personale è quello di dare una grossa mano alla squadra quando vorrei chiamato in causa di dare tutto quello che ho e che non sono riuscito ad esprimere fino a questo momento poi per diversi motivi ma comunque sono arrivato qui in questa società mi hanno dato grande fiducia e quindi spero e voglio ripagarlo sul campo quando vero chiamato in causa questa è la situazione poi a livello contrattuale si vedrà col corso del tempo per me questa è una rampa di lancio per me lo vedo come un'opportunità grande dove mettermi in mostra qui può valere anche magari più di qualche altra piazza in serie C quindi per me è motivo di comunque orgoglio e di soddisfazione essere qui adesso tocca a me dare il meglio di me poi io sono ambizioso quindi penso che questo sia sia il posto giusto per poter ambire comunque una carriera importante le mie caratteristiche primarie sono quelle della fisicità quella della profondità sono un giocatore abbastanza di gamba e quindi sono uno che può magari dare una una soluzione in più quando le partite sono un po' più bloccate quando serve un po' più di gamba un po' più di energia là davanti questo è principalmente la mia la mia caratteristica principale è un po' la nostra filosofia quella che abbiamo sempre fatto in base alle scelte che abbiamo fatto in questo biennio insieme a Paolo di cercare comunque i giocatori più d'ultimi tatticamente e Joseph rappresenta anche questo tipo di soluzione non è solo esclusivamente una prima punta che va in profondità per la sua fisicità per la sua potenza che esprime ma è un giocatore che veramente si adatta benissimo in tutto il reparto offensivo e laddove il mister ne avesse bisogno quindi è anche questa la voglia che ci ha spinto a dare questa opportunità a ragazzi ad ogni club di Lega Pro la canzone preferita in occasione del festival di Sanremo si tratta di un contest lanciato pochi giorni fa sulla pagina ufficiale della Lega Pro che sta ottenendo grande successo e molta curiosità il club Amaranto ha scelto un artista legatissimo alla città ovvero Pupo ascoltiamolo un caro saluto a tutti e sono qui per ricordarvi che anche l'Arezzo la mia squadra del cuore ha scelto di partecipare al Sanremo della Lega Pro e pensate la canzone che l'Arezzo ha scelto è Su di noi guardate dietro di me se lo vedete là dietro di me c'è ancora un disco d'oro guadagnato da Su di noi nel 2019 pensate straordinario una canzone che mi rende orgoglioso immortale che sono felice che partecipi al Sanremo della Lega Pro quindi votate per Su di noi il Sanremo dell'Arezzo Calcio ciao e questa era anche la nostra ultima notizia io vi ringrazio come sempre dell'attenzione e vi auguro una buona serata arrivederci